allora la canna è questa cinesata qua con un linello da fondo in realtà perché ero venuto a pescare in un lago a fondo questa è la buca ho preso vedrete nel video cosa ho preso e le esche sono queste cucchiaino con ciuffetto e altro cucchiaino anche un po rovinato e dopo due slanate eccola qui ciao bellissima la pescata è finita direi che è andata bene in un'ora e un quarto ho preso cinque trote e due le ho perse slamate all'inizio perché avevo la frizione chiusa e adesso inizio a piovigginare quindi vado a casa